C'è ciò che succederà all'interno di Spoleto nella parte del perimetro esterno. L'idea è quella di circoscrivere, di far capire che sia all'interno del festival, nonostante ci si trovi sulle strade, di percorrenza, le direttrici d'entrata e la possibilità ovviamente di poter far sì che attraverso alcuni punti chiave, sia dove si svolgono le manifestazioni e le serate più importanti, sia nei vari percorsi cittadini, il festival sia presente con l'immagine, i nomi di tutti ciò che hanno partecipato. In questo coinvolgimento che un po' per volta siamo riusciti a far diventare proprio parte di quelle che sono le piccole imprese del territorio cittadino, abbiamo notato ovviamente che la risposta giorno dopo giorno arrivava, fugate le prime perplessità sugli investimenti, su come li spendiamo, su che cosa ci fate, ma che riscontri otterremo, scusate, sono stati molteplici incontri, non abbiamo la bacchetta magica e oggi possiamo dire che tutta quanta la ConfCommercio, la persona del Presidente ma poi individualmente di tutte le imprese che hanno la possibilità di investimento, ovviamente abbiamo creato diverse forme.